Quali sono i profughi eritrei che sono ostaggi nel deserto del Sinai? Noi abbiamo ricevuto la prima richiesta di aiuto il 24 novembre, sono già un mese che si trovano in queste condizioni, le condizioni che ci raccontano sono condizioni terribili, persone tenute in catene, incatenati sia ai piedi che nelle mani, persone continuamente percossi e tutti i giorni venivano presi a sprangate con bastoni di ferro, tutto questo per costringerli a chiamare i propri parenti che vivono in Europa per chiedere soldi che poi serviranno per pagare il riscatto. Il riscatto che questi trafficanti chiedono sono di 8 mila dollari a persona, sappiamo che ci sono in mezzo a questi profughi di cui parliamo sono già 250 eritrei, tra i quali ci sono donne con bambini, donne in stato di gravidanza, da quello che ci raccontano le testimonianze sono di persone costrette a mangiare una pagnotta ogni tre giorni, costretti a bere acqua salata, addirittura c'è stato periodo che non gli davano neanche quell'acqua, quindi sono stati costretti a dover bere le proprie urine pur di sopravvivere alla sete per cui non morire per questo. Sappiamo che poi c'è stato riferito che sono stati uccisi 8 persone tra il 29 novembre e il 12 dicembre. Di fronte a queste situazioni, a questi drammatiche racconti di queste persone, noi abbiamo più volte lanciato appello sia al governo egiziano, alla comunità europea, anche tramite i vari diversi uffici delle Nazioni Unite, anche all'ONU, abbiamo chiesto un intervento perché queste persone vengano liberate. Chi potrebbe liberarli era l'unico, il governo egiziano, quindi bisognava fare pressione sul governo egiziano. In questo senso il Parlamento europeo si è mosso con ritardo, ma si è mosso votando una risoluzione che sollecitava il governo egiziano a un intervento immediato, cosa che però fino a questo momento non è mai accaduto. La situazione anche a livello italiano, la Farnesina fin da subito è stata informata, inizialmente si è anche attivata subito per informare le autorità egiziane, e però non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, così come anche il Papa ha fatto un appello il 5 dicembre durante l'Angelus Dominicale, anche l'appello del Papa si può dire quasi è stato inascoltato dalle autorità egiziane. In questa situazione non è coinvolto soltanto l'Egitto perché tutto questo dramma si sta svolgendo al confine tra Egitto e Israele e anche la striscia di Gaza, quindi anche le autorità palestinesi sono coinvolte in qualche modo. In tutto questo dramma si parla di traffico di esseri umani, traffico di organi, anche di queste persone che non potendo pagare perché non hanno nessuno che può spedire dei soldi, gli viene chiesto in cambio di farsi uno spianto di un organo per poter pagare il proprio riscatto. e quindi sono situazioni veramente gravi di fronte a quali nessun Paese civile dovrebbe stare a guardare o far finta di non vedere queste questioni. A distanza di un mese le notizie che ci giungono invece sono molto preoccupanti per il fatto che anche quelle persone che sono state liberate dai trafficanti, una volta liberate, tentavano di fuggire e di attraversare il confine con Israele, le autorità, la polizia egiziana invece li ha arrestati con l'accusa di migrazione clandestina. Noi avevamo chiesto anche nel nostro incontro con l'ambasciatore egiziano presso la Santa Sede chiedendo che queste persone, man mano che venivano liberate, potessero essere consegnati in mani sicure, quindi in mani dell'Ufficio delle Nazioni Unite, quindi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati che ha sede anche a Cairo. Per questo, perché queste persone una volta liberate possano trovare quell'assistenza, quella protezione di cui hanno bisogno. Invece le notizie di questi giorni, l'ANSA ha portato questa informazione che alcuni persone liberate invece sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di immigrazione clandestina, uccisi o costretti a dare un organo pur di essere liberati e continuare a vivere. Questa situazione drammatica deve finire e chi deve farla finire sono gli stati che devono intervenire, soprattutto gli stati coinvolti in questa situazione, il Gitto, Israele e le autorità palestinesi che devono cooperare per cancellare da quel territorio questi tipi di traffici odiosi, cose che si pensava superate tra i 700 e i 800, quindi il mercato di schiavi si pensava che era già istinto, invece stiamo assistendo a un nuovo mercato di schiavi perché queste persone vengono vendute, vendute anche tra di loro, tra un gruppo di trafficanti e l'altro, fanno la compravendita di queste persone. Sappiamo anche che c'è un mercato che viene fatto di queste persone, soprattutto di donne, di ragazze, bambini, verso i paesi arabi, soprattutto l'Arabia Saudita e anche altri paesi del Medio Oriente a cui vengono vendute queste giovani, giovanissime donne sia come lavoratrice, quindi più lavoratrice, proprio schiave e così come anche avviate in situazioni di prostituzione e quanto altro. Per cui noi ci appelliamo che la comunità europea si attivi da subito verso l'Egitto per offrire anche la sua disponibilità ad accogliere questi profughi e ad arginare anche ogni tipo di traffici che in questa regione si stanno accadendo già da tempo, non è una novità, ma mai come questa volta era successo che un gruppo così vastissimo, l'Ansa ci ha riportato le notizie, si parla di circa 1500 persone tenuti in totale condizione disumane di schiavitù, per cui bisogna intervenire con urgenza che queste persone vengano salvate, liberate e protette, come dovrebbe essere per ogni richiedente asilo e rifugiato.